...che mi evitò le ponte nel campo della boxe, col fatto che da piccolo ero piccolo, le zuffe le schivavo o per lo più, finivano col capo dei rivali che dicevano ti picchio solo per i miei gli occhiali e cominciai di colpo ad anni sette, la vita da quattro occhi e due stanchette. Così iniziò la mia carriera atipica, picchiavo io ma non picchiavo a me, e non per la mia condizione atletica, ma perché sia il doppiare, nessuno ti fa male. ...che questo sono io, Luigi il pugilista, che è il dono della smista e che di sua festa faccio a modo mio, ...e fuggirò da Dio, senza venire percorso, perché io invece forse le mani del corso, ...che mi evitò io, parola di lui, ti... ...lo so che l'altro a me mi sozzo valutà, ma tiro i pugni a panterà finché... ...colpisco con il cipite, lo cipite, e lui assapora il volto di un tipo di canzopo, ...di quelli che uno sembra 27, parola di quattro occhi e due stanchette, ...che questo sono io, Luigi il pugilista, dai fondi dei bottini, ...mi abbozzò nella mia, c'è uno stile mio, non è un problema se... ...è tutto un po' spoccato, ma quello che ho minato sì che l'ha capito, ...dove l'altro io, parola di lui... ...dove l'altro io, parola di lui... ...la panella, fece il suo ingresso quella donna bella, ...che legge il numero del randicoso, io all'improvviso mi sentivi disperso, ...con sigli occhiali per sembrare la intante, e l'avversario mi ripiede... ...ma questo sono io, Luigi come fatto, che dall'ottantaquattro deteneva il titolo di Peripaglia, ...e quando mi svelai, vedevo molto meglio, e quella donna bella, che sembrava bella, ...era soltanto un titolo, era soltanto un titolo, era soltanto un titolo, ...ma io mi ne insisto... ...ma io mi ne insisto... ...ma io mi ne insisto... ...pazzesco... ...avete assistito a un fatto epocale, se ne parlerà, se ne parlerà parecchio... ...dovevi chiedermelo prima... ...c'è, nel senso, dovevi dirmi... ...fatti... ...così, no... ...allora non vengo... ...no, adesso, dopo questo brano così intenso, un altro brano... ...è, nel senso...